amici di canale caccia punto tv siamo ad it 2018 una presenza fissa della manifestazione andrea quadrini mulla cassaforti d'autore andrea è una parata di modelli che non hanno più fine veramente la qualità al di sopra di tutto in quest'anno abbiamo voluto portare dei modelli diversi diciamo con la possibilità di essere gestibili e modulari e qua dietro abbiamo un classico esempio di un 36 posti componibile a 12 pezzi per modulo ha sempre la rifinitura in noce nazionale l'interno sempre blindato il peso complessivo di questo oggetto è un 600 kg abbiamo anche delle novità su una linea diciamo più economica normale che se è questa eccole qui me l'avevi anticipato andrea vediamo con 200 kg di peso con interno gestibile in 23 fucili o 12 eripiani è quello che lascia veramente stupiti anche la rifinitura per un amadio blindato non per una cassaforte abbiamo fatto questo interno per il fattore estetico e anche per l'umidità mettendo in luogo umido il legno interno mi ritraspare tutta l'umidità bene quindi una gamma di prodotti che aumenta sempre di più ma una delle caratteristiche dell'azienda è il fatto della personalizzazione giusto per fare un esempio ai nostri amici cacciatori ecco uno dei vari modelli che l'azienda personalizza perché l'azienda è dotata di una falegnameria alle competenze tecniche per l'assemblaggio e quindi praticamente voi siete in grado di andare a rispondere in modo preciso e puntuale a tutte le esigenze dei clienti sì questo qua è un esempio di un armadio diverso al posto del solito nozze nazionale abbiamo utilizzato un rover e massello abbiamo portato delle modifiche sull'estetica rendendolo un diciamo un arredamento minimal tutto squadrato con piedi aziaio satinato beh c'è anche una particolare lavorazione a taglio di sega come si può dire è un seghettato passato con seganastro per quanto riguarda le finiture della laccatura chiaramente siete in grado di proporre tutta la sterminata gamma dei colori ral sì in base alla colazione ral andiamo a portarla sul legno bene so che ci sono novità in divenire nell'azienda per cui vi state anche proiettando su un discorso di pubblico anche internazionale perché avete riscosso già un ottimo successo lo scorso anno di va e questa avventura sta continuando che cos'è che chiede principalmente il cacciatore italiano anche il prezzo o chiede la qualità sono richieste come esigenze particolari adesso il mercato date le molte fregature che il pubblico ha ricevuto in passato sta richiede un prodotto molto di qualità rifinito sia internamente che esteticamente qual è il tipo di assistenza che date post vendita alla clientela noi diamo un assistenza al cento per cento su qualsiasi cosa che può accadere all'armadio quindi se vi resta ammaccato se non chiude bene se ha qualche difetto interno a parte che il 99 per cento noi non consigliamo qualcosa di difettato però se sfugge qualcosa noi andiamo a sostituirlo in garanzia cioè veramente praticamente un mobile per sempre che mi permette grazie alla flessibilità produttiva di poter andare incontro veramente a tutte le esigenze dal cacciatore collezionista per capirci fino a chi è che ha una collezione di armi limitate per godersi in santa tranquillità il riposo delle sue armi a casa un'altra cosa giusta che offriamo è il ritiro del nostro usato per l'acquisto di un pezzo nuovo ecco questa è una bella novità anche perché l'azienda è in campo da tanti anni tu sei subentrato in azienda da diversi anni ricordiamo tutti il caro paolo che chiaramente essendo un nome cassaforti bulla a livello nazionale sono migliaia i pezzi distribuiti agli amici cacciatori per cui questa è una cosa veramente interessante messa in campo da te Andrea io ti ringrazio per il tempo e la disponibilità siamo riusciti a scambiare quattro chiacchiere ho visto che il successo in fiera è stato enorme perché stavi sempre lì a trattare con i nostri amici cacciatori per risolvere i loro problemi e dare delle soluzioni bene grazie ancora grazie a te alla prossima non possiamo dimenticarci www.cassafortibulla.it all'interno della quale trovate il sito con strutturata tutta una serie di modelli in questo momento chiamati in azienda perché siamo in una fase di tra virgolette restyling in cui verranno introdotti ulteriori nuovi modelli alcuni andranno a sostituire per diciamo delle caratteristiche di particolari magari piccoli ma che l'azienda ha portato molte molte migliorie molte molte migliorie e quindi trovate lì già delle risposte all'interno del sito trovate i riferimenti telefonici di andrata all'azienda quindi potete tranquillamente chiamare in azienda state tranquillo che troverete cordialità e disponibilità nelle risposte e la fornitura delle vostre soluzioni con il massimo della personalizzazione e con il massimo della qualità del prodotto grazie Andrea grazie